Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Maurizio e come sempre come in tutti i miei video che trovate qui di fianco, voglio presentarvi qualche articolo che vi può essere utile nella vostra quotidianità e in questo caso arriva l'estate, arrivano le fastidiose zanzare, come in questo unboxing vi faccio vedere un articolo che ho scovato in rete decisamente ottimo, con un prezzo veramente accessibile e con un'utilità proprio per questa stagione fondamentale, questo articolo ha molte funzioni ma adesso le vediamo nel dettaglio, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un bel like e possiamo partire, andiamo! Eccolo qui, questo è l'articolo in questione, può sembrare una banale racchetta anti zanzare che trovate in qualsiasi centro commerciale, appesi in giro, primo prezzo, ma è tutto meno che quello, la funzionalità è molto simile ma la qualità è decisamente diversa e soprattutto ha la possibilità di lavorare appoggiata ad una sua base con un attacco USB, quindi si può ricaricare, può lavorare appoggiata, il suo cavetto è molto lungo, eccolo qui, siamo al metro, si appoggia all'interno, si accende, avete sentito? Ha frezzato subito, perché qui c'è qualche zanzara e lui può rimanere appoggiato qui e lavorare in autonomia, fa un effetto molto carino di luce azzurra proprio per attirare gli insetti e come avete visto è bastato accenderle subito paff, 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 ha preso e ha ammazzato subito una zanzara che girava qui dentro, io la sto testando da parecchi giorni, ce l'ho da circa un mese e mezzo, non ho voluto fare il video prima perché ero abbastanza scettico sul prodotto, ma vi devo dire che mi devo ricredere, proprio perché ha questa particolarità di essere una racchetta, quindi di potersi divertire ad ammazzare mosche, vespe e zanzare che trovate in giro per la casa, io questa l'ho utilizzata in questo mese e mezzo lasciandola fuori sul balcone essendo a batteria accesa, ferma, immobile ed è decisamente utile, proprio perché attira le zanzare, le ammazza, io da quando ho questa sempre accesa sul balcone la sera non ho più questo problema, abbiamo avuto qualche particolarità quest'anno che le zanzare sono arrivate lunghe, nel senso che normalmente iniziano molto prima soprattutto a Milano, invece quest'anno sono arrivate decisamente tardi, a metà giugno circa e da quando ce l'ho, fantastica, le vedi proprio che vengono attirate, zac, e le ammazza, il rumore che fa è quello delle tutti gli azzicca zanzare, ha tre funzionalità, senza luce, con luce e anche la possibilità di essere usata come racchetta, consigliata perché è un prezzo veramente accessibile, perché è diversa da tutte quelle che trovate all'interno dei centri commerciali a 9,90, 14,90, ha un prezzo veramente simile, una batteria integrata, quindi lui non ha più bisogno di andare a cambiare le pile sempre all'interno come quelle che trovate in giro e poi perché è un prodotto che viene venduto su un sito si chiama Futura Trend, lo trovate proprio qui, che vi dà tutte le garanzie della spedizione, una spedizione che in una settimana mi è arrivato il prodotto a casa, vi garantisce la qualità del prodotto perché proprio c'è il reso anche se non siete stati soddisfatti e questa è una gran cosa. Se andate a visitare il loro sito ci sono tutte le recensioni degli utenti che l'hanno già comprata, davvero molto bella, materiale molto robusto, protezione come vedete con una bella griglia, c'è una protezione anche per le nostre zampette, tanta roba, quindi complimenti alla Futura Trend che ha proposto questo e molti altri articoli sul loro sito che vi consiglio di andare a visitare. Io l'ho scovata dalle mille pubblicità che ho visto su Facebook e quindi sono stato incuriosito, l'ho presa ed effettivamente è stato un acquisto azzeccato. Adesso me la porto anche in Sardegna e me la metto sulla mia verandina, la sera quando mi guardo, mi monto i miei video, lei mi proteggerà da tutti quegli insetti abbastanza fastidiosi che in questo periodo ci sono in giro. Quindi tanta roba, vi ricordo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale e bella. Ciao!